Una ragazza imita Kim Kardashian e diventa virale, ecco perché Visto la sua popolarità, Kim Kardashian è una delle donne più ammirate e imitate del mondo. Dal look all'aspetto fisico, a volte le sue sosia riescono ad acquisire notorietà, come questa ragazza che però è molto differente dalle altre doppelgacondiere Singer. Si dice che ognuno di noi abbia almeno sette sosia nel mondo, ma forse Kim Kardashian ne ha qualcuno in più visto che sono tante le persone che vogliono emulare la regina dei reality più famosa del mondo. C'è chi ha speso addirittura migliaia di dollari e messo a rischio la propria salute per avere un fondoschiena come quello della moglie di Kanye West, e ancora continua a sottoporsi a dolorose e numerose operazioni per batterla sulle misure, come se ci fosse una specie di gara sulla grandezza del lato B. C'è però chi invece ha deciso di prendere esempio da Kim Kardashian in modo positivo, e proporre un tipo di fisicità alternativa che, anche se non è assolutamente paragonabile a quella della socialite, è ugualmente bella a modo suo. La ragazza in questione si chiama Diana Sirocai, ed è una modella plus size di 21 anni. Siamo entrambi donne con corpi differenti, ha scritto vicino a una foto che la ritrae accanto a Kim Kardashian, Diana indossa lo stesso costume bianco indossato da Kim durante un photoshop e il suo scopo è dimostrare che, anche se non si hanno le fattezze da sirena della regina dei reality, si può essere lo stesso belle e femminili sì, anche con qualche chilo in più. Un messaggio al mondo. Diana Sirocai è una ragazza ungherese di 21 anni, ha creato una collezione di vestiti con il brand Xehar, e ha 480 mila followers su Instagram, che spesso l'hanno paragonata proprio alla formosa moglie di Kanye West. Mi è sempre stato detto che se avessi perso peso sarei stata uguale a Kim Kardashian, ha detto durante un'intervista Ho quindi avuto l'idea di ricreare l'immagine di Kim per mostrare al mondo che non dobbiamo essere come lei per sentirci ed essere meravigliose. Adoro queste foto di Kim, le foto che ha usato per lo shooting, MDR, e nella mia testa mi dicevo che non avrei dovuto fare una cosa del genere perché, in quanto ragazza plusizze ho le parti del corpo più grandi, quindi ho pensato e lo farò. Questo è quello che intendo per positività del corpo. Diana ha poi spiegato che il suo scopo è sempre essere il più naturale possibile, anche se non giudica le persone che si sottopongono a interventi di chirurgia estetica per modificare il proprio fisico. C'è chi dice che persino Kim Kardashian si sia sottoposta a interventi di chirurgia estetica per ottenere il suo proverbiale lato B, e che i suoi fianchi da sirena siano il non troppo naturale risultato delle protesi impiantate da un buon dottore. La regina dei reality ha sempre respinto al mittente queste illazioni, dicendo che le sue forme sono il frutto di tanto allenamento e di una sana alimentazione. Non sappiamo se è davvero così, ma di certa c'è una cosa, le donne che vogliono essere come lei continuano ad aumentare. Ciao!